Nei giorni scorsi ho fatto qualche storia su Immuni, la nuova app del Ministero della Salute per tracciare il contagio da coronavirus e mi è sorpreso molto il fatto che su oltre 1000 partecipanti ad un mio sondaggio su Instagram circa un terzo di questi ha dichiarato di non voler scaricare l'app sul proprio smartphone quindi ho chiesto quale fosse il motivo e nella maggior parte dei casi è venuto fuori che il motivo è legato ad una comprensibile preoccupazione per quanto riguarda la privacy, quindi quali dati vengono raccolti, come vengono gestiti e che utilizzo ne può fare poi il governo. Per questo motivo ho pensato che fosse utile fare un breve video per spiegare come funziona e per svelarvi l'uso che viene fatto tutti i giorni dei vostri dati Comincio facendovi vedere una cosa, quello che ho di fronte in questo momento è un pannello dal quale posso accedere a tutti i vostri dati per mandarvi promozioni, offerte e annunci pubblicitari e soprattutto posso incrociare tutte queste vostre informazioni, i gusti, i comportamenti e le vostre abitudini per mandarvi degli annunci mirati e personalizzati quali sono i vostri interessi e le vostre abitudini se siete esperti di prodotti di bellezza o andate spesso dal parrucchiere posso vedere anche, vediamo un po', se amate gli animali domestici, se amate il brivido, se amate la vita notturna se siete appassionati di uno stile di vita ecologico se siete dei fascionisti posso scegliere quello che cercate sul web se state pianificando un acquisto, una vacanza tramite quest'altra piattaforma invece posso utilizzare i vostri dati, sempre anonimi ma comunque molto dettagliati per inviarvi qualsiasi annuncio o promozione commerciale in maniera mirata posso ad esempio mandarla solamente a quelli di voi che vivono in una determinata zona in qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi città del mondo o zona geografica ma anche quelli solamente che ci sono andati di recente o che ci stanno viaggiando ora ma non ci vivono questo perché il vostro smartphone va a monitorare in temporale la vostra posizione ad ogni ora del giorno e quindi vede se è un luogo che state visitando per la prima volta se ci vivete abitualmente, se ci siete andati in aereo, in auto, a piedi qual è la vostra fascia di età? quindi conoscendo esattamente la vostra età io posso mandare un annuncio solamente a quelli tra i 28 e i 35 anni che sono donne, che parlano italiano o qualsiasi altra lingua ma soprattutto posso incrociare questi dati con tutte le altre informazioni raccolte su di voi che probabilmente voi non conoscete tutto ciò che riguarda la vostra istruzione, campo di studi, università, scuola che avete frequentato gli aspetti finanziari e voi direte ma come fa a sapere qual è il mio reddito? e questa piattaforma lo sa quindi chiedetevi quando gli avete comunicato e come questo dato se avete una relazione a distanza se avete un nuovo lavoro, una nuova relazione se vi siete fidanzati da poco, da sei mesi, da tre mesi, da un anno quindi con una precisione impressionante o se vi siete trasferiti da poco se siete genitori, se avete relazioni, lavoro, gli interessi che avete in qualsiasi ambito se cucinate, che cosa cucinate, cosa vi piace, cosa non vi piace mangiare qualsiasi hobby avete, qualsiasi tipo di sport andate a praticare se parlate di politica, di cosa parlate, per chi votate, quali sono le vostre abitudini di acquisto tramite questa terza piattaforma invece posso accedere comunque a tutti i vostri dati come abbiamo visto la località, la lingua e vi dicendo ma soprattutto tutto ciò che riguarda il vostro lavoro quindi dove lavorate, che lavoro fate, in che azienda in che categoria è la vostra azienda, da quante persone è seguita, in che settore quanto cresce la vostra azienda di anno in anno e che dimensioni ha l'esperienza lavorativa, quindi tutte le vostre qualifiche, le funzioni, le vostre competenze, l'anzianità gli anni di esperienza e tutti i vostri interessi ecco, di tutti questi vostri dati personali che ogni giorno, a qualsiasi ora, vengono raccolti dal vostro smartphone immuni non ne utilizza neanche uno quindi potete stare tranquilli e mettere da parte ogni timore relativo alla privacy oppure nei casi ancora più estremi legati a teorie del complotto secondo cui il governo vorrebbe i nostri dati per controllarci inoltre immuni è un'app open source ovvero il suo codice è pubblico ed è disponibile online per cui chiunque abbia le competenze può accedervi e può studiarlo e capire con esattezza quali sono le funzionalità dell'app e cosa fa esattamente sul nostro smartphone insomma, non ci sono segreti e leggendo il parere di vari esperti che io seguo sui social pare anche che quest'app dal punto di vista tecnico sia fatta molto bene e sicuramente molto meglio delle piattaforme solitamente realizzate dalla pubblica amministrazione quindi cosa fa immuni? semplicemente genera un codice casuale sul nostro smartphone che cambia tra l'altro ogni ora quindi è simile ai codici dei token delle banche delle chiavette che utilizziamo per autenticarci quando usiamo l'internet banking e utilizza il bluetooth del nostro smartphone per scambiare questo codice con tutti gli altri smartphone con cui viene in contatto registrando tra l'altro la durata del contatto e la distanza tra i due smartphone in questo modo se due persone si incontrano ed entrambe hanno l'app installata semplicemente i loro smartphone si scambieranno questo codice e di conseguenza ogni smartphone andrà a memorizzare l'elenco di tutti i codici delle persone con cui è venuto in contatto quindi se nei prossimi 15 giorni una persona dovesse risultare positiva al coronavirus semplicemente dovrà informare gli operatori sanitari comunicando il codice presente sulla propria app e automaticamente verrà inviata una notifica a tutti i codici memorizzati nel proprio smartphone ovvero a tutte le persone con cui si è entrata in contatto negli ultimi 15 giorni per informarli appunto di essere stati a contatto con un caso positivo di coronavirus informandoli tra l'altro della durata del contatto e della distanza a cui si trovavano per sfatare alcuni miti su questa gestione della privacy numero uno l'app non accede a nessun dato personale e non identifica l'utente quindi non conosce chi siete, non conosce la vostra posizione, non conosce i vostri dati e le vostre informazioni personali due, l'app non può geolocalizzare l'utente non usa il wifi, non usa il gps quindi non può in alcun modo andare a geolocalizzare la posizione dell'utente e tre, il codice di tracking che viene generato dall'app è totalmente casuale quindi non è in alcun modo legato alla persona, al suo smartphone, al dispositivo o qualsiasi altra azione è un codice totalmente casuale esattamente come quello dei token generato dalle banche adesso ricordate le piattaforme che vi ho fatto vedere all'inizio e tramite cui io posso utilizzare tutti i vostri dati a scopo pubblicitario, commerciale o promozionale? bene, la prima è Google quindi oltre a tutto quello che voi fate sul motore di ricerca anche tutto quello che fate su Chrome, che è di Google tutto quello che fate su YouTube le vostre mail su Gmail, i vostri percorsi su Maps i vostri appuntamenti su Calendar e in generale tutto quello che fate, dite o scrivete sul vostro smartphone se utilizzate Android la seconda invece è Facebook che include quindi a sua volta Whatsapp, Messenger, Instagram e anche in questo caso tutto quello che voi andate a fare attraverso questi social incluse le note vocali di Whatsapp la vostra rubrica a cui Whatsapp accede e di conseguenza vi suggerisce le amicizie su Facebook la terza invece è LinkedIn quindi tutta la vostra vita professionale, la vostra carriera lavorativa quindi senza prenderci troppo in giro ogni giorno noi offriamo milioni di dati a tutti questi servizi che poi sono gestiti da aziende private che quindi giustamente utilizzano questi dati a scopo di lucro che sia pubblicità o che sia venderci dei servizi e lo facciamo perché decidiamo più o meno consapevolmente di utilizzare un loro servizio gratuito perché ci è utile, perché ci intrattiene o quello che vogliamo offrendo in cambio i nostri dati anziché un pagamento in questo caso invece quello che ci viene chiesto è di scaricare un'app per cui 1. non dobbiamo pagare nulla 2. non viene raccolto nessuno dei nostri dati 3. tutto quello che dobbiamo fare è scaricarla e tenerla spenta sul cellulare e 4. non dobbiamo farlo per fare un favore al Ministero della Salute il favore lo stiamo facendo a noi stessi e a tutti quelli che ci stanno intorno perché se nelle prossime settimane qualcuno di noi esce e va al supermercato, prende un autobus va in un locale, va a tagliarsi i capelli e 15 giorni dopo una persona che era a fianco a noi in quel momento anche uno sconosciuto risulta essere positivo al coronavirus è importantissimo che noi veniamo a saperlo immediatamente in modo che possiamo prendere tutte le precauzioni necessarie e quindi ad esempio possiamo evitare di andare a trovare i nostri nonni oppure chiedere che ci venga fatto un test prima di uscire a cena con i nostri amici forse qualcuno di voi già se l'è scordato ma negli ultimi tre mesi sono morti oltre 33.500 italiani quindi per favore cerchiamo di fare le persone serie evitiamo queste buffonate e scarichiamo questa benedetta app sul nostro smartphone anche perché pure nell'ipotesi in cui avesse raccolto i nostri dati se state guardando questo video siete su una piattaforma che in questo preciso istante sta raccogliendo molti più dati su di voi ed è importante che la scarichiate anche perché l'app funziona solo se a scaricarla sono in tanti credo almeno un 60% delle persone perché il meccanismo su cui si basa è simile a quello dell'immunità di gregge per i vaccini e cioè è efficace se la maggior parte delle persone che ci circonda ha a sua volta l'app installata sullo smartphone altrimenti possiamo anche averla noi ma non possiamo scambiare il nostro codice con nessuno non è obbligatorio scaricare immuni ma è importante che voi lo facciate quindi se avete qualsiasi domanda, timore o preoccupazione prima di farlo lasciate un commento, ne parliamo, lo chiariamo insieme ma poi scaricate quest'app va bene qualsiasi dibattito sulla privacy va bene qualsiasi polemica su una o più immagini contenute nell'app ma direi che in questo caso l'obiettivo è leggermente più importante ed è la tutela della salute delle persone dopo tre mesi in cui abbiamo visto quello che è successo dimostriamo di aver imparato qualcosa grazie a tutti